Una partita piena di gol e spettacolo. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità, cerca il passaggio può concludere. Si scrive... Prova il filtrante. Può colpire. La mette in avanti. Provano a partire in velocità. Prova la giocata nello spazio. Qui deve tirare. Ed eccolo il gol! Il contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte. Di nuovo in parità. Incredibile. Può tentare la conclusione. Ma è incredibile! Fase di stallo. Ecco il tiro. Biffa all'estremo difensore. Che partita amici, che partita! Un'emozione dopo l'altra. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Che l'affollamento in aria alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Allarga sulla fascia. C'è il cross. Può provare. Cerca la profondità. Sulla fascia. La mette al centro. Salta e colpi. Occasioni, ripartenze, numeri, grandissime reti. Non ci stiamo certo annoiando. E si deve ancora decidere tutto. Prova il tiro al volo. Gioca con un pallone lungo. E trova il compagno. Si libera la grande. Attenzione! Teco è duro ma efficace. Cerca lo spunto. C'è il retro passaggio. Tenta. Ricky Alvarez. Prova il filtrante. Occhio al tiro. Riccardo Alvarez. Vuole la profondità. Cerca il tiro. È un grande riflesso qui. Se ne va. Grande azione personale. E fa colpire di testa. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Cerca di allungare il gioco. Occhio alla conclusione. Tenta di calciare. Il portiere radicalizzare. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Palla in avanti. Va al tiro. Bella serie di passaggi. Cerca un compagno. Prova la giocata dello... Ecco il tiro. Palla dentro. Le squadre hanno optato per il cambio. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. C'è il retropassaggio. Conclusione. E adesso guarda... Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Si libera da grande. Chance per tirare. Verbacare lo spazio sulla dr pleasures. ... Grazie a tutti.